Il tetto è stato ricostruito, ora stiamo rinforzando tutto, pulendo tutto, tutta la roba da lavare dentro e fuori. Qua sono stati messi i pali per rinforzare tutto il tetto, ora bisogna rinforzare le pareti esterne, vero Eric? Tutto qua esternamente che si deve sistemare, è strano senza gatti, c'è solo l'illo qua ora. Ci dobbiamo abituare pure a questi pali, per adesso ci sono solo questi in gabbia che non possono scappare. Non ci mancava l'esperienza a uragano, questa è tutta roba da lavare, 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 che l'uragano ha portato un sacco di terra nera. È vero? No, è franco. Sotto ci sono trasferiti 68 gatti dentro casa. E non ci sta facendo i panini, vogliamo darlo a un'altra attrezza, non si conta me che non stasera. Basta che all'ultimo non la fuoco, e di fasci il pomo del canale.